Ciao a tutti ragazzi, sono Gongsividol, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi una challenge particolare, devo usare per uccidere solo una barca Posso stare sopra la barca, posso cambiare posizione all'interno di una barca Però devo usare e sparare solamente dalla barca Quindi scendo all'inizio, cerco subito delle armi decenti C'ho una zanzara davanti che mi sta facendo impazzire Atterrerò qua al centro dell'isola E se mi trovo qualcuno davanti io non lo posso sparare A meno che io, come ho detto, non sia sopra una barca Quindi mi serve subito un'arma Questa è un pompa verde tattico, mi può andare bene Non capisco perché ho i volumi così bassi E perché Whatsapp è ancora smutato, cavolo Un secondo, spero di non morire intanto Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Queste non mi servono a niente Ancora ragazzi io non ho sparato, eh Allora, mi serve un assalto e posso anche tranquillamente andarmene Ho le cuffie scariche Non ci credo Ho le cuffie scariche, ho fatto iniziato a registrare Mi sono appena svegliato in pratica Cioè, svegliato, ho appena acceso il computer Sono sveglio già da un bel po' Purtroppo Allora, vediamo Uno scudone, va bene Un po' di materia, vabbè Non posso costruire dato che sarò dentro una barca E dentro la barca non posso costruire Quindi, forse è il caso di finire, di luttare Oh mio Dio Il cecchino al posto di questo pompa Voglio provare ad usare il tattico per il momento Pistolano, grazie a meno che non fosse quella epica o leggendaria Mi sarebbe piaciuta tantissimo E non trovo Eccola la barca Perfetto Devo cambiare zona Dovrebbe esserci qualcos'altro all'interno della casa Però sull'altro lato No, no Non posso, non posso Non mi ha sparato Non mi ha visto È stupido Una cesta qua dentro O qua sopra, non lo so Ok, diciamo che ora ho un assalto Quindi me ne posso andare sulla barca e sparare i tizi Fa schifo come assalto Perché comunque lo sapete che non mi piace più di tanto Però, vabbè L'ho trovata anche verde Quindi me lo tengo Una barca è lì Mi sistemo le armi poco poco Questo va così Mi servono anche Player, ti prego Non spararmi ancora Fammi arrivare sulla barca Che poi ti sparo io Non capisco perché non mi stiamo sparando ragazzi Ma raga, mi sono trovato un bot? Credo di sì Posso scendere e lutarmi la barca Sperando di riuscire a scendere la barca Ok, sì, lutarmi la barca Certo Posso scendere e luttare Zanzara maledetta Lo ucc... No, è viva L'ho presa con la mano, ok Ed è ancora viva Comunque, lutarmi il player Così va meglio Battle pass livello 13 Va bene Non trovo più player ragazzi Forse è il caso di andarmene da qua Dove posso andare? La zona si chiude praticamente sopra di me Speed Ah ok, è vero che posso sparare anche con Con i lanciarazzi della barca Ma l'avevo dimenticato E poi avevo una barca anche qua Buttiamo giù la casa Non si sa mai che ci sia qualcuno Dai No eh Non è esploso nessuno Non si è mosso nessuno Vediamo cosa c'è qua Un pompa blu Ma chi se ne... Quella roba Ah, è tipo rischi ris Come si esce da qua? Raga, non trovo player Raga, voglio altri player È un casino da eliminare la barca Sicuramente Non ci sto capendo tantissimo No, con control cambio posizione Non va bene No, no, no Così, via Devo andare verso la zona Verso il centro Magari trovo qualcuno 50 player rimasti Ho una sola kill Fatta dalla barca Come ho promesso Vediamo cosa c'è qua dentro Medic it no gratis Uppia Non mi spara Sì, mi spara Perché è andato da un'altra parte? Si sta avvicinando Devo ritornare a guidare Spidare Chi? Sei qui Mori Raga No, eh Va bene Va bene Perfetto Qua gli è rimasta l'arma Incastrata in cielo Ok Tutto normale Non sto capendo Questo gioco Oddio un altro No Dove sei? Morto? Non posso ricaricare l'assalto? Cosa vuol dire? Non ho altri proiettili dell'assalto? Devo andare a prenderli da quel tizio Dai, speed, 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 speed Lo so che sono in una barca Ma vai anche in terra Scusa Scendi Non posso scendere Ok Questo mi piace Questo mi piace La mia barca è caduta giù Vabbè Ne prenderò un'altra Già che ci sono Tanto questa Se la sta portando Anche via la corrente Questa è nuova Nuova Mi prendo questa Non capisco dove siano gli altri player Gli ho sentiti Ecco di qua Oh ma Faccio schifo? Sta luttando Perché sta luttando? Devo ricaricare Oh Grazie Vediamo se aveva qualcosa che mi serviva Munizioni Nulla di più Dove dovrei andare adesso? Dove potrei trovare altri più? Non ho una canna da pesca ora che ci penso È strano che io non abbia una canna da pesca all'inizio della partita Solitamente la cerco sempre Cioè non faccio niente Sennò quando non trovo una canna da pesca Iniziamo a sparare un po' a caso L'unico da costruzioni Tipo lì ho visto qualcosa Qualcosa che si illuminava Lucicosa Ecco appunto Ci sono due player in questa casa Adesso Dai la barca che si muove da sola No Se riesco a colpirlo E ucciderlo con la barca che si muove Ragazzi è GG Dove mi sono incastrato? In terra Si stanno sparando loro? No è una mia kill Dove vuoi andare? Vai Vai barca vai vai muoviti Devo arrivare lì Però Spondamela almeno il muro Non ce la farò Oh 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 Non posso sparare fuori dalla barca Quindi fammi risalire veloce Sento molta gente che si spara Ok Mostratevi Mostratevi a me maledetti Io ho parcheggiato Su un pontile La mia barca Bene Non vedo player Neanche col cechino Non c'è nessuno neanche là dietro Non sento passi E allora scendiamo Vediamo dove è troppo Scusate cioè Per forza li devo trovare da qualche parte No Porto GG Posso scendere Questo è un assalto decente Spero che abbia anche emulizioni Perché ne ho 18 io 30 186 Va bene Devo trovare un'altra barca Assolutamente Devo trovare un'altra barca Devo entrare in zona oltretutto Io sono nella terraferma Magari dovrei andare forse in acqua Per muovermi poco poco più Horaccialmente no Devo anche andare contro corrente Aiuto Ok Non mi sono schiantato Però mi sono arenato Ma non mi sono schiantato Si vola Oh mio dio Vai Siamo dentro la zona Cerchiamo altri player Ne sono rimasti 5 Dove sono Dai Non è così tanto piccola la zona Quindi Saranno anche sparsi Cavolo Non riuscirò a trovarli facilmente Vi è morto qualcuno Credo Mi sto velluto Mi sto Iiii Che è che è che è che è che è che è Scusa 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 No 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 Muori 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 Devo andare in quella direzione Lì vedo Lì vedo Sto sparando a caso Intanto la mia barca si muove da sola L'avete visto quel colpo L'ha sparato in aria Guardate i colpi stanno andando verso l'alto Non ha senso Risale È morto Ok Prova a investirlo Dov'è Non spararmi Non spararmi Non uccidermi Non ancora Non è no L'ho ucciso con la barca L'ho ucciso con la barca Ok Va bene Fatemi luttare Mancano Ah no 16 player Ero a 7 kill Ero a 5 kill Quindi adesso a 7 Quindi mancano ancora un bel po' di player ragazzi Questo Me lo bevo Anche un altro Anzi no Tanto Vabbè Perfetto Mollo lanciarazzi O tengo lanciarazzi No mi fa saltare in aria la barca Non lo posso tenere Non mi conviene La mia barca quanta vita ha Spero ne abbia ancora un bel po' Ah 499 Ci sta dai La zona si sta chiudendo Perfetto Quindi qualcuno lo troverò qua Sembra di no Mi pianto torno in acqua Qui in questo laghetto Mi servirebbe Recuperare un bel po' di scudo Ma a quanto pare nada Ho appena trapassato una casa Io sono al centro della zona Cecchino Ho visto la direzione dello sparo Non ho visto Due cecchini Gira 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 Morto Dai sali Posizione giusta E qui E qui E qui Ma che Stava sparando Gente stupida Però Devo ammettere Ti devo ringraziare Per lo scudo Questo mi serviva 4 player Questa volta Sono 4 veramente Anche per il pompa Mi serviva anche quello Soprattutto quello Anzi GG SMG ce l'avevo Munizioni Sono a posto Devo correre via Con la barca Subito Dai 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 Gira 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 Da bravo Così Sono passato in mezzo Perfetto Devo andare a sinistra Però Ancora 4 player Non vedo nessuno Sono al centro della zona Ragazzi Adesso salto Dovrei vedere almeno tutti Non ho preso abbastanza Per la città Mi sa Visto 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 Mi arrivo addosso Ma era qua Era qua ragazzi L'avevo visto Cioè l'avete visto anche voi Per forza E' sparito Eccolo Oh 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 GG Dai Avanza 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 E tu chi sei? Chi ti aveva visto? Mi sono chiuso Con la mia stessa barca No 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 Aia Ti fa male In testa così Vero Non posso scendere? Non posso scendere veramente? Perché ho Roba che Ok Si è bugata la barca Perfetto L'ha ugita Tanto siamo da vicino Lo posso prendere Ho detto OG Statico shotgun No Raga sono incastrato qua E' una OG là sotto Devo scendere Ci sono riuscito Ora posso finalmente Rientrare in zona Per favore? Grazie Un player Rimasto Dov'è? Non sarà mai andato All'aerrope Sicuro Non ci vado io La mia barca Sta esplodendo Non credo nemmeno Sia dentro a casa Io sto qua Nella mia barchetta E lo aspetto Dove è finito? E' nascosto Da qualche parte Raga Deve essere uno Di quei nabbi Che si ferma Per tutta la partita E aspetta Il cerchio finale Qua c'è una macchina Sott'acqua Oddio No 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 Non posso riuscire A fare la stessa cosa Davvero Che 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 cosa No è dentro E' qua Mi ha spaccato la barca Non lo posso uccidere Non lo posso sparare Non è che non lo posso uccidere Trappole Ne ho No Ma è un hub Mi serve una barca Non ce ne sono altre Vero? No Quella è una macchina Non è una barca La barca è sulla spiaggia Cavolo Eh io non lo posso uccidere Così però Sbaglio o stava ballando Io lo tappo Vediamo un po' se ci riesco Ehm Ok Bene ragazzi Per questo video è tutto Ci sentiamo Domani E stasera Ovviamente In live Dalle 21 In poi 20 21 in poi Quindi Ciao ciao ragazzi